La tappa di Coppa del Mondo di Verona per noi italiani e anche per gli stranieri è una delle più prestigiose. Io poi sono comunque veneta, quindi Verona ce l'ho nel cuore. Ero piccolina quando venivo anche solo per girellare tra gli stand e poter portare via qualche ricordo di Verona. Quindi poi aver avuto l'occasione e l'opportunità di partecipare diverse volte è stato un sogno che si è realizzato. L'idea è di farlo con Elza, sicavolo che ha saltato i campionati europei a Rotterdam. Abbiamo fatto le due tappe di Oslo e Helsinki dove abbiamo fatto per la prima volta due concorsi di alto livello indoor. La sua esperienza di alto livello per il momento era legata ai concorsi fuori. Quindi lì abbiamo un attimino rodato la situazione ad Oslo e Helsinki e speriamo qui di fare del nostro meglio. I cavalli che fanno la differenza sono quei cavalli che quando sentono la campana sanno di dover dare il meglio di sé. Io credo che sia una sensazione che un cavaliere ha abbastanza alla svelta, io non dico alla prima gara, ma insomma quei cavalli che, come si suol dire, vogliono far bene. Sono quei cavalli che non importa la situazione, il contesto, la pressione che hanno addosso, ma hanno la missione, come dire, di far bene. Sono quei cavalli che fanno la differenza nella vita di un cavaliere, sono quei cavalli dei quali poi nel tempo si sente parlare. Grazie. 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 Grazie.